E ragazzi, come va? Io sono Feri e Niki E sono Stef, e chiesto di giocare a Fortnite Benvenuti in un nuovissimo episodio di Fortnite E Stef, che facciamo oggi? Oggi andiamo a caccia di airdrop Ma andiamo a caccia di airdrop per un motivo molto, molto, molto strano Ovvero, mi è venuto un dubbio gigantesco Dimmi Ok, se sta arrivando un airdrop E tu crei una piattaforma e ci metti un trampolino No, Stef, non lo possiamo fare Cosa succede? Cioè, torna indietro l'airdrop Sarebbe fantastico, non lo so Però in effetti è curioso Quindi Perché non voglio escludere a priori il fatto che non succeda nulla Praticamente vedrete un montaggio di noi che andremo a caccia di airdrop Però allo stesso tempo a caccia di trampolini Insomma, non sarà semplice provare questa cosa No, perché il trampolino è che difficile Quindi faremo tanti game E se poi riusciamo a far baggare un airdrop A salirci sopra e a sparare dall'alto e vincere pure un game Sarebbe la cosa migliore del mondo Questo è il mio piano a fare in realtà, eh Questa è la mia idea Comunque andiamo ai fuggi ritirato Non ci riusci mai Il nostro primo obiettivo, cos'è? Il nostro primo obiettivo è andare a trovare un trampolino Quindi, trampolino Sopravvivere Accentrarci nella zona Dopodiché caccia di airdrop tutto il tempo Un sacco di fight perché due in airdrop è pieno di gente Non è neanche troppo difficile da trovare Il trampolino è più difficile Lo senti, cerchi di seguire la direzione Fai attenzione a non farti subito uccidere Almeno un player Viene con te alla torre Ci andiamo insieme? Sì Dai andiamo insieme alla torre Eh, ma lui è andato sotto Ha trovato qualcosa? Eh, penso di sì Però io qua sto prendendo un'arma Mitraglietta Ok Lo devo bloccare Piconate lo sto a prendere Cosa? Lo sto a prendere a picconate Davvero? Vieni qua Fere? Penso che abbia appena trovato un'arma Fere? L'ho ucciso e mi ha lasciato uno di vita Schifoso che non sei altro Perché ha lottato la cesta, capisci? Adesso lo sto finendo Perché voglio essere cattiva e mi prendo il suo fucile blu Cioè Lui aveva un fucile No, non aveva un fucile Allora, è scelto così Sì No, ascoltami Ok Mi è andato in questa casettina Per primo Ok Non aveva niente Anche se mi ha visto che lo stavo piccolando Ha comunque lottato le munizioni Scelta sua Ok Corre qua Io corro dietro di lui Prende la cesta Gli capita sto accidente di fucile blu E come mi spara Io avevo uno di vita Ma gli avevo dato troppe piccolate Ed è morto uguale È stata una bella storia Molto bella Molto bella Sai che c'è ovviamente l'amico, vero? Sì E sai che io ho uno di vita Hai uno di vita Ok Ok L'importante è saperlo Io l'ho visto Lui era senza arma Io ero senza arma Io avevo il piccone Che mi diceva nell'orecchio Picchia lo uccidi La fitte Quindi l'ho dovuto fare I finicotteri non parlano Sì che parlano I miei sì No I miei sì Vabbè Ah Fere sparano È bassissimo Fere È stato divertente però Cioè Tu non idea di quanto l'ho fucilato Sto fucilapompa È davvero ridicolo Cinque di vita aveva Cinque di vita aveva Fere ci vogliono rovinare Non ci vogliono far fare Le nostre belle cose Li vedi? Eh sì Sì più o meno Ah eccoli Allora uno gli ho fatto Gli headshot Gli ho tolto un sacco di scilla L'altro gli ho tolto un pochino Ok Ok Se li ammazziamo Loro ce l'hanno Ok brava Ripararci Le nostre cose Dove sono Maledetti Non ho molta visione Perché c'è l'albero in mezzo Questo albero gigante Lo so Un po' difficile Però non voglio sprecare colpi Per bucarlo Eccolo C'è anche l'altro Ricarico Uno è giù Ok manca l'altro Giù Andiamo Bravo Quattro kill Dai Andiamo 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 Quando è che cade il primo aeropo Porca miseria Dimmi che ce l'avete No quando è che troviamo il trampolino Fatemi vedere qualcosa di viola No Dai Peccato Eccolo Ok è destino È destino Ma non abbiamo il trampolino Magari lo trovi lì E quindi primo aeropo per il trampolino Secondo aeropo per la gloria Ah ok beh si ha senso Dov'è Lo dici tu Non lo so Eh l'ho visto 60 gradi È tutto dritto Andiamo Ok Ok Colpi ne hai 56 Così così Metti la Scillino ne hai Sì vabbè andiamo Ci pensiamo dopo Anche perché È un video a priori fare Dove andiamo a caccia di airdrop Poi se riusciamo addirittura a farlo Ti aiuto Ecco ho fatto Cosa? Avevo priorito all'opio Sai quando ti viene quel prurito Sì di nervoso tipo Mamma mia Eh no neanche Perché poi deve essere il trucco Che mi fa prurito Ogni due secondi Quindi mi dovevo per forza grattare E dicevamo sì Che è un game Cosa mi stavi dicendo? A caccia di airdrop A priori riuscire a fare quello Se non riusciamo a farlo oggi Quello lo facciamo un'altra volta Ma siamo a caccia di airdrop E anche a caccia di kill Perché già 4 kill Non è male Siamo ben equipaggiati L'hanno aperto? Non lo so Secondo me hanno aperto l'airdrop No avremmo sentito il boom Mmm Mmm Forse eravamo troppo lontani Per sentirlo Guarda vedi che bullano lì? Le scale Vedi le scale? Sì la vedo la vedo E lì c'era l'airdrop Ricordo bene no? Quindi l'hanno aperto Quindi loro hanno il nostro trampolino Fere Non c'era altra forza il trampolino Sì Era lì Io lo so che non lo troveremo mai E come finiremo di fare il video Delusi E mezzo con le lacrime Lo troveremo Fere Sempre così Adesso Se tu li ammazzi Abbiamo il trampolino All'iscorso e se li ammazzi Perché comunque Mica è semplice Questi sono ben equipaggiati Secondo me Allora Aspetta guardiamoci anche intorno Perché siamo in una zona Dove non siamo ancora stati Quindi non sappiamo Quanta gente ci può essere Mi è sembrato di sentirvi il dare Dove sono finiti secondo te? Non lo so Perché stavano correndo Hanno lutato E poi hanno continuato a correre Ok Potremmo trovarci neanche di fronte Infatti non sono felicissimo Eccoli 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 Ovest 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 Ci corrano addosso Davvero? Molto vicini? Da questa direzione Sì 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 Molto vicini Ok Quindi sotto questa collinetta In pratica Capito? Sì ce li ho sotto i piedi Ok dove? Stanno cercando di colpirmi Con la palestra Ah Da un altro lato credo Oddio Quanti lati siamo Attaccati in questo momento? Credo che loro Stiano sparando Qualcun altro No scendi 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 Oh ma ci lascia in pace Vai via Gli arriva uno da dietro però E quello da dietro è con lui? Non è contro di lui Lo stanno sparando Guarda sono i due Sono i due E così fari Così nessuno ci avrà mai notato Stai zitto Zitto silenzio Ma che faccio? Gli sparo? No Perché ho paura Che abbiamo ancora sotto Questi qua Che magari si stanno godendo La scena Come noi ci stiamo godendo La scena a nostra volta E che quindi ci becchino In zero secondi Che si fa? Io andrei Andiamo Vai Fede L'hai sentito? Dietro di noi Sono caduta di sotto Anche io Dimmi che sei viva Sì 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 Vivissima Stai a pompa Ok Ma chi è che ci spara? Ma non lo so No mi hai chiuso Oddio avevo una granata in faccia E tu mi avevi fatto un muro di fronte Da lì sopra Lo vedi il disgraziato? Sì Colpito Dietro di noi di nuovo Oh che cavolo Da dove? Non lo so Ci tirano granate da ogni dove Stef Non lo so Ti giuro che non capisco Allora mi tiro un medikit Ok Riesce a venire qua? Sì 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 Ci stanno seguendo? Non lo so Controlla un po' Ho costruito in tutti i modi possibili Per cercare di ripararmi Ok io ho finito i materiali È un delirio questo game No io per fortuna ne ho Non vedo niente Non vedo niente Ok due scillini Ci sono Ok Allora io quello che ci stavo stando Comunque gli ho dato un bel po' di colpi Quindi non deve essere altissimo Di vita Gli ho visti eh Ok dove? Di fronte a noi Ok Lo vedi? Sì Dove è l'altro? Non lo so Dove? Qui Al tuo lato Ok 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 Vieni via perché c'è altra gente Ma quanti? Basta Calma ferma 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 Stanno fettando dall'altra parte del ponte Troppi non è possibile Respira Ci siamo ancora Ci siamo ancora Siamo ancora vivi Siamo anche dentro la zona Prenditi le bende che c'è lì No ne ho ne ho ne ho Il problema è che non ho colpi Dodici colpi Dodici colpi Io ne ho io ne ho Adesso vengo a darteli Ok Allora Questi Te ne do Ottanta Sì Vai 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 Hai i cilini? No Nien che io Pazienza Perché ne ho solo uno Quindi pensavo di averne Allora ricarico Ok li ho presi a lanciagranate Non avevano trampolini Per Ok Peccato peccato Perché con tutte queste kill Ce li potevamo almeno trovare Ok questo me lo prendo Ricarico Di fronte a noi vedi dove c'è tutto quel bullying Lì ho visto altra gente sparare Mentre tu eri a terra Ok Hanno aperto un airdrop Sembrerebbe Sembrerebbe Ma cavolo li raggiungiamo Dato che qua è tutto un delirio Li ho visti muoversi eh Ok Non facciamoci notare Ops Ecco Ma non mi hanno visto Guarda stanno muovendo ora Stanno correndo entro la casettina E qualcuno li spara ancora Qualcuno li spara Sì Loro sono nella casetta Andiamo? Eh dai sì Ormai Sto cercando di capire verso che direzione spari Ok Però Qua c'è uno shield Non possiamo non prenderlo Eh no certo Mi refullo Ok Lì c'è loot Quindi è morto qualcuno Sì Aspetta che me lo tiro Ok vai Che ansia Siamo in 12 eh Siamo in 12 E poi Oddio la zona è anche grandetta Cioè Sì 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 È capitato che tu ti Vedi qua loot C'è una balestra Boh se vuoi prenderti qualcosa Vedi tu No me la faccio nulla Airdrop Sopra di noi Ok Per questo momento mi interessa poco Perché Ok Dove saranno Non lo so Allora li ho visti salire sulla collina prima Uno era sopra questa collina che sparava di fronte Quindi verso l'ovest Aspetta ma quanto loot c'è in questo posto Però aspetta Quel medikit Why not Prendi anche Ferre Ferre Gli abbiamo uno fuori È qui È qui davanti Sparalo Parca miseria Eh lo so Eh poi c'era anche l'altro Perché siamo andati qua a lootare Lo so Dovevo andare sulla collina Ti ho detto Sono sulla collina Allora infatti sono riscesi da lì Te la voce Io non lo so Perché ogni tanto diciamo delle cose Che poi non Ah Ragazzi se vi è riuscito Lasciateci un bel like Questa è la prima volta che vi ho detto il nostro video Potete considerare lì Ad iscrivervi per non perdere gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Grazie per la visione!